E' finita in carcere la 31enne Valentina Casa, madre del piccolo di 8 anni, ucciso di botte e accardito il 27 gennaio scorso dal padrigno Tony, 24 anni, arrestato dopo il fatto e tuttora detenuto. L'ho ordinato il GIP del Tribunale di Napoli Nord che ha contestato alla donna, come sostenuto dagli inquirenti, l'omicidio aggravato per la morte del piccino e il tentato omicidio della sorellina, che fu picchiata violentemente da Tony ma riuscì miracolosamente a salvarsi finendo in ospedale in gravi condizioni. Per il GIP la donna non solo sarebbe rimasta inerte durante il pestaggio, pur avendo il dovere di intervenire a protezione dei bambini, ma invece di chiamare i soccorsi si sarebbe prodigata a cancellare le tracce del reato. Il 24enne, emerso dalle indagini, avrebbe perso la testa perché i bambini avrebbero rutto la sponda del letto comprato da poco. Agli inquirenti la donna Valentina Casa aveva raccontato di essersi fermata in una sorta di blocco psicofisico che le aveva impedito di fermare il compagno che pestava i bambini. Gli inquirenti sono andati oltre scoprendo, grazie alle testimonianze di parenti e conoscenti e degli insegnanti della scuola frequentata dal piccolo e dalla sorellina, le violenze e i maltrattamenti subiti ad opera dei genitori dai due bambini. Il fatto sconvolse Cardito e l'opinione pubblica. Tony e la moglie, dopo il pestaggio mortale, affermarono anche di aver sottovalutato la portata delle ferite inferte ai bambini e di essersi recati in farmacia a comprare una pomata per curare quelle lesioni.